La prima cosa che devi fare per utilizzare Split è assicurarti di avere la versione più recente dell'app Smart Wallet e, in caso contrario, aggiornare l'app. Per fare ciò vai allo store delle applicazioni, inserisci Smart Wallet nella barra di ricerca e clicca sul pulsante Aggiorna. Tieni inoltre presente che il tuo portafoglio deve essere attivato per ricevere le ricompense. Per attivarlo devi avere dei Coin Smart sul tuo saldo. Per l'attivazione è sufficiente un solo coin. Tuttavia, per uno splitting di successo ti consigliamo di avere una quantità sufficiente di Coin Smart, in quanto sono necessari per l'esecuzione dello Split Contract. Dunque, assicurati che la tua app sia aggiornata e che ci siano dei Coin Smart sul tuo saldo. Apri il tuo portafoglio. Clicca su Split. Si aprirà una schermata con informazioni dettagliate sul tuo saldo. Per partecipare allo splitting, clicca sul pulsante Splitting che si trova proprio sotto il tuo saldo. Ricorda che lo splitting richiede la presenza di Coin Smart sul tuo saldo. Sono necessari per pagare l'esecuzione dello Split Contract. Se non hai abbastanza Coin Smart, ti verrà chiesto di ricaricare il tuo saldo. Se ci sono abbastanza Coin sul tuo saldo, si aprirà una finestra con informazioni sullo stato attuale dello splitting. Nella schermata che si aprirà saranno disponibili le seguenti informazioni. MySplits, il numero di token split sul tuo saldo. Total Supply Splits, il numero totale di token split nella blockchain. Daily Reward, il numero giornaliero di token ultimo distribuiti tra i possessori di split. Blocks for Halving. Current Block, mostra il blocco corrente nella blockchain. Final Block, mostra l'ultimo blocco per il periodo di halving corrente. MyEstimated Reward, il valore indicativo della ricompensa per tutti gli split che possono partecipare allo splitting. Tieni presente che se hai ricevuto i token al tuo indirizzo meno di 24 ore fa, non potrai richiedere una ricompensa. Per scoprire quali token sono pronti per lo splitting, vai alla sezione Split Details cliccando su MySplits. Vedrai per quali token puoi ricevere una ricompensa e per quali no. Naturalmente puoi richiedere una ricompensa, ma questa verrà accreditata solo per gli split che hanno più di 24 ore. Allo stesso tempo, dopo che avrà richiesto la ricompensa, l'età di tutti i token split verrà azzerata. Dopo esserti assicurato che tutti i token siano pronti, torna alla sezione splitting cliccando sulla freccia in alto a sinistra dello schermo e clicca sul pulsante Claim Reward per richiedere una ricompensa della blockchain. Apparirà una schermata di conferma. Tieni presente l'avviso relativo alla commissione Smart. Essa può arrivare fino a 100 Smart. Se hai una quantità inferiore di Smart al tuo saldo, la tua richiesta di ricompensa potrebbe non essere soddisfatta dalla blockchain a causa della mancanza di energia richiesta dal contratto. Pertanto ti consigliamo di ricaricare il tuo Smart con una riserva. Dunque, assicurati di avere abbastanza Coin Smart nel tuo portafoglio. Spunta la casella di controllo per confermare che accetti termini di utilizzo del prodotto e clicca sul pulsante Confirm. Fatto! Hai richiesto con successo una ricompensa. Clicca sul pulsante OK e si aprirà la schermata dei token ultima. Lì potrai vedere la tua ricompensa. Alla fine della nostra guida vogliamo informarti sulle regole che devi conoscere per utilizzare il prodotto. Qualsiasi transazione di token split in uscita, anche se uno su mille, azzererà l'età di tutti i token. Se nel tuo portafoglio sono presenti dei token split che ti sono arrivati in momenti diversi, anche per l'ottenimento di ricompense questi token saranno pronti in momenti diversi. L'età minima di un token split è di 24 ore, quindi se richiede una ricompensa e hai dei token che non sono ancora pronti per questo, hanno meno di 24 ore e si verranno azzerati insieme a quelli idonei a ricevere la ricompensa. Non dimenticare di partecipare allo splitting e di richiedere la tua ricompensa ogni giorno. Buona fortuna! Se hai domande contatta il servizio di assistenza e saremo felici di aiutarti.